Espugnare Latina per ripartire ed archiviare la sconfitta di una settimana fa contro Roma. E questa è la missione che Peppe Dato affida alla noto Catania in vista della quarta giornata di campionato. I rossazzurri affronteranno domani la prima vera trasferta stagionale al netto del derby giocato in casa della Muri Antichi. Il coach rossazzurro si aspetta risposte dai suoi ragazzi al cospetto di una delle formazioni più in forma del campionato. Il Latina è infatti attualmente secondo a sette punti a due lunghezze dalla Roma capolista. Il confronto con gli etnei sarà il primo vero banco di prova per i laziali che finora hanno affrontato solo squadre di bassa classifica nell'ordine Frosinone, Civita Vecchia e T-Group a Reiki, segnando ad ognuna sette reti. I latinensi sono una cooperativa del gol. Non c'è infatti un finalizzatore principe come ad esempio Torrisi tra i rossazzurri. Lo scorre realizzativo è distribuito tra 11 giocatori con Aiello, Priori, Barberini e Parisi, capocannonieri a quota 3. Punto di forza del Latina è anche una difesa solida, brava finora a non concedere mai troppo alle avversarie. La gara sarà quindi un ottimo test per l'attacco della Noto Catania che contro i laziali dovrà ritrovare gli assetti perduti nel match contro Roma e rilanciarsi prima della sosta invernale, vincendo e possibilmente convincendo. Proibitivo invece il compito della Muriantichi, ancora a quota 0 punti e impegnata in casa della Roma nuoto capolista, mentre Telimar Palermo e Sette Scogli Siracusa saranno impegnate in due scontri diretti rispettivamente contro Rarinantes, Salerno e Frosinone.